Il processo è da annullare, reclamano i difensori. Denunciateci per falso ideologico, replica in tono di sfida l'accusa e il presidente del tribunale, Pignatone, non nasconde un po' di frustrazione. Ci vorrà tempo per cominciare, se riusciremo, dice, a cominciare. Quarta udienza oggi del processo sugli investimenti della segreteria di Stato Vaticana a Londra, con imputato anche il cardinale Becciu. Il dibattito verti ancora sugli atti incompleti, ovviettano gli avvocati dei sei alla sbarra, depositati dall'accusa. Troppi omissis, audio e video falcidiati e mutilati e anche Papa Francesco risulta essere stato ascoltato dai promotori di giustizia, ma non c'è nessun verbale, reclama l'avvocato Panella, difensore del finanziere Enrico Crasso. Circostanza negata dalla controparte, il PM Vaticano Alessandro Diddi. Durante un interrogatorio a Monsignor Perlasca, testimone chiave del processo, è stato solo citato cosa disse Francesco sulle indagini due anni fa sull'aereo di ritorno dal viaggio in Giappone e Thailandia. E molti tagli sugli atti del processo si spiegano col dovuto segreto investigativo su nuovi filoni di inchiesta che in pratica forse potrebbero diventare nuovi processi per altri reati ancora. Prossima udienza intanto il primo dicembre, per decidere anzitutto delle richieste della difesa avanzate oggi. E data la complessità del processo, c'è anche la giudice supplente Lucia Bozzi, nominata oggi ad occuparsene.